Dall'Arena Lucio, un appuntamento unico, quello che si celebra in prima serata sul Rai 1, una notte magica dedicata alla musica del grande Lucio Dalla. Carlo Conti condurrà questa grande festa in musica con la partecipazione speciale di Fiorella Mannoia. Fiorella, Lucio Dalla l'ha anche interpretato. Per me è un maestro, un punto di riferimento, un'ispirazione, è tutto questo. E con Carlo Conti insieme a Fiorella Mannoia questa sera ci farete vivere una serata eccezionale. Sì, sì, non vuole essere una commemorazione di Lucio Dalla, assolutamente, ma deve essere una grande festa. Tanti artisti che si esibiranno dall'Arena di Verona per celebrare il cantautore bolognese. Lucio Dalla al di là dell'artista oramai, che gli vuoi dire, insomma, era uno che passava dal pop al jazz all'opera, proprio veramente fuori da ogni logica. Il sorriso, non lo so, a me ogni volta che penso a Lucio Dalla mi viene il sorriso naturale, perché secondo me ha regalato delle grandi emozioni e ci ha raccontato con grande sensibilità. La prima volta che abbiamo incontrato Lucio Dalla era nel 2012, avevamo 17-18 anni, e ci siamo messi a fare una gara di vocalizzi proprio qui, in quel camerino lì. Tommaso Paradiso e la storia con Lucio Dalla. Che storia è stata? È una storia per la quale, attraverso la quale io ho iniziato a scrivere a un certo punto in italiano, perché ho ascoltato Lucio Dalla, quindi ti basti pensare a questo. La grande libertà, libertà di attitudine alla vita, e che inevitabilmente andava dentro alla musica e alle canzoni che facevano.